Musica Benvenuti ragazzi e soggessi di questo nuovo video Oggi siamo su H1Z1 su Playstation 4 Perché è uscito veramente di recente Non so da quanto, credo 1-2 settimane Adesso non vorrei dire cavolate Che è già un gioco che io avevo già giocato All'uscita su PC Quindi molti anni fa Saranno più o meno due anni o cose del genere Che non ci gioco più Più o meno da poco prima che uscissero giochi come Fortnite O Player non Battleground Perché alla fine lo stile è sempre quello Il Battle Royale Quindi diciamo che questo qua è un po' quello che Dicevamo E' un po' il papà di questi giochi qua Diciamo perché è un pochettino quello che ha dato un po' l'inizio Alla moda dei Battle Royale Adesso non so, non vorrei dire cavolate Dire che è stato il primo Battle Royale E roba del genere Perché non ne sono sicuro Non è una minima idea Comunque è stato uno di quelli più amati Quelli più giocati Prima di Player non Battleground e Fortnite E finalmente Oltre ad essere diventato free to play Su tutte le piattaforme Quindi PC, PS4, Xbox E' uscito anche sulle altre piattaforme Oltre che il PC Quindi c'è sia sulla Play che su Xbox Cosa che prima non c'era Io direi subito Di provare a fare una partita Sarà una partita sola Perché comunque le partite qua durano molto di più di Fortnite Meno di Player no Ma comunque durano molto di più di Fortnite E Beh è anche un po' molto più complesso Rispetto a Fortnite Qua certo non puoi buildare Qua ci sono i veicoli La mappa è molto più grande Molta più varietà di armi Quindi ci vorrà un po' di più E poi perché sono scarso E devo ancora allenarmi Ma non ho il tempo Perché se voglio far uscire il video In tempo Non posso dilungarmi tanto nella registrazione Soprattutto visto che devo ancora poi editarmelo Quindi ci vediamo in partita Bene ragazzi Siamo spawnati Diciamo Siamo in verità Siamo in caduta libera Perché comunque Fortnite c'ha il bus Player no Non c'ha l'aereo Invece qua Voli con i paracadute E poi cadi con i paracadute Quindi Scusatemi ma sono un pochettino influenzato Io direi No C'è già qualcuno che droppa Stato se Ok lì c'è qualcuno che lagga Non saprei bene Ah Quella casetta laggiù Mi spira un botto Però È un po' fuori Andiamo ad andare un po' più In là Qua però c'è già qualcuno Quindi Proviamo ad andare in là Prendiamo il veicolo Ce le scappiamo malissimo Ok Siamo atterrati Allora Questa è la mia terza partita Da quando ho scaricato Il gioco sulla play 4 Nonostante c'ero anche su pc Ho provato ad andare sulla play 4 Ma che comunque Sono abbastanza arrugginito Quindi volevo andare col joystick Che mi trovavo Già un pochettino meglio Ora Riusciremo A non farci ammazzare subito Ok C'è già gente che muore Non dirmi che è fuori dalla recensione Potrei sentirmi anche un po' Impresa in giro Ah no Altro qua Ho visto che so che qua c'è spawnato C'è già stato qualcuno Perché ho visto che droppava Io Punterei già subito A un altro Posso Dove potrei andare Se imparo a guidare magari Squad È scomodissimo a guidare Ho provato i veicoli Io andavo benissimo Con quad È stra scomodo Allora Siamo in safe Giusto Seguendo questo stato Andiamo un pochettino più In dentro La safe Guarda dopo che sta già arrivando La nebbia Ah Non ho niente Proprio niente Niente Alla giù Ho paura che ci sia qualcuno Già Alla giù c'è un Drop Un airdrop Secondo voi qua c'è qualcosa Secondo me Sì Bella Qua c'è già stato qualcuno Almeno un minimo di roba ce l'abbiamo Perfetto 50 50 Ok Non prendo niente Ah un minimo ci siamo armati Qua C'è una delle bende Ho un medikit Però Non ho Un'arma decente Ho solo delle pistolette Che posso almeno prendermi altre munizioni Quindi Io direi Io E potremmo provare a puntare A un drop Un airdrop Se no muoriamo prima Ne vedo uno lì Uno lì E là giù c'è un maledetto Non si può sparare Mentre si guida Ricarica Ricarica No niente Peccato Peccato raga Veramente peccato Avesse avuto Una mitragliatrice Una mitraglietta Un pompo Qualcosa Basta che non fosse una pistola Ce l'avrei potuta fare Ci vediamo ancora Nella prossima parola Perché questa è stata velocissima Ok ragazzi Siamo spawnati Ora direi Di puntare Subito Qui Non dovrebbe esserci Tant'altra gente Invece si Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Mi conviene Droppare qua Sotto E sperare Di riuscire a recuperare Delle armi Prima che Di beccarmi Qualche giocatore Quindi Certo che potrei andare Un pochettino più avanti Io non so droppare In nessun gioco No forse In player Non un pochettino Però tipo Fortnite E H1Z1 Non riesco Per niente A droppare Allora Siamo arrivati C'è gente che si scanna Allora Dai Dammi qualcosa Dammi qualcosa Di bello Perfetto No Seriamente Niente Backpack Cacchio Adesso Non so Se Mi converrebbe Cercare Cercare un backpack O Droppare La balestra Così Quasi Droppare La balestra Perché Meglio avere Una shotgun Con me Ok Allora Casco Casco Molto bene Munizioni Lasciamo lì Ok Siamo abbastanza A posto Però adesso Possiamo poi subito Spostarci Una volta Aver Raidato Un pochettino Allora Medikit Qua c'è un quad Dovrebbe essere funzionante Qua non si copriva niente Vediamo un po' se Allora Se sapessi salire le scale sarebbe Molto più bene Invece non sono neanche capace A fare questo Che sono su un tetto Quali vantaggi Mi da essere su questo tetto In cui non c'è niente Avrebbe dei vantaggi Se ci fosse Qualcuno Qui sparare Voi vedete qualcuno Qui sparare Io non credo Allora Allora Io direi Di prendere il quad E allontanarci da qua Un pochettino di roba Ce l'ho Giusto per sopravvivere Un pochettino Mi sembra l'ideale Il centro della safe Sta A Nord Aspetta Di qua più o meno Sì Diciamo che sta Non è tanto nord Penso che andiamo A dire Abbastanza in linea retta Allora Vediamo un po' se Beccavo ancora qualcosa Se riuscivo almeno A aprire un edificio Ancora Bella Allora Oh alleluia Un backback Ok Via Ok Credo che di qua Una macchina In una strada Di 5 corsie Posso beccarla Io proprio Allora Qua la rischio Tanto Devo uscire Dalla città In fretta Non so guidare I quad Raga Allora Porco Schifo Raga Se mi salvo Se mi salvo Veramente Raga Ok Non mi ha tolto Vito Mi ha danneggiato Un pochettino Il giubbato Antiproiettile La vedo brutta Raga La vedo bruttissima Sposto un po' più in qua Ok Certo Ora un airdrop Mi farebbe comodo Siamo in 53 52 Quindi Io bene o male Potrei Benissimo Sì Fermarmi qua Per me Raga Ci sono Degli airdrop Siccome Siamo nei più vicini 47 47 45 Mentre si stanno restringendo Sono già di nuovo a bordo Porco schifo Raga Porco schifo Raga No Raga No Niente Non c'è Non c'è niente da dire Faccio schifo Devo sempre giocare con qualcun altro Se no Faccio veramente schifo Io Vi ringrazio Per aver partecipato Per aver visto questo video Non per aver partecipato Per aver visto Questo video Mi invito a passare Nel link In descrizione Per Isagaming Per giochi scontatissimi Mi invito a passare Nel link di Instagram Per seguire il mio profilo Quello degli altri Del canale Per Aggiornamenti Su nuovi acquisti O roba del genere Io Vi saluto Da GES è tutto Ciao A tutti Bella Ciao Ciao lamps E' хорош Grazie per la visione